qual è il tuo più grande desiderio la tua più profonda bramosia l'isola lo sa anche se tu lo ignori è magia isolana apre nuove prospettive io trasformo le fantasie in realtà proviamo a goderci questo momento nei nostri corpi giovani e in salute la mia fantasia è di mangiare 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 e mangiare sei pronta a cominciare sì 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 che l'avventura abbia inizio benvenuta a fantasy island non sempre le cose sono come appaiono potreste vedervi sotto una nuova luce sono te io sono te non mi serve il tuo aiuto porta la mia da qui aiuta le persone persone smarrite che hanno una necessità di cui però non si rendono neanche conto grazie mi chiamo elena rorke e questa è la mia isola